Dopo gli incontri al Palazzo Presidenziale di Ankara, Papa Francesco ha chiuso la prima giornata del suo viaggio in Turchia, visitando la Dianet, il Dipartimento per gli Affari Religiosi, il cui presidente Mehmet Gormez è la più alta autorità religiosa islamica sunnita in Turchia. Dopo l'incontro privato, il Papa e il Presidente hanno raggiunto la Grande Sala, che nel 2006 ospitò anche l'incontro con Benedetto XVI. Dopo il discorso del Presidente Gormez, Papa Francesco ha ricordato la tragica situazione che si è creata in Iraq e Siria a causa di un gruppo estremista e fondamentalista, ha detto riferendosi all'IS. Intere comunità, specialmente ma non solo i cristiani e gli azidi, hanno patito e tuttora soffrono violenze disumane a causa della loro identità etnica e religiosa. In qualità dei capi religiosi abbiamo l'obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani. La vita umana dono di Dio creatore possiede un carattere sacro, pertanto la violenza che cerca una giustificazione religiosa merita la più forte condanna, perché l'omnipotente è Dio della vita e della pace. Da tutti coloro che sostengono di adorare Dio, ha aggiunto il Papa, il mondo attende che siano uomini e donne di pace, capaci di vivere con tutti come fratelli e sorelle. Il Pontefice ha quindi ricordato gli elementi di comunanza tra musulmani e cristiani, entrambi depositari di inestimabili tesori spirituali. Riconoscere e sviluppare questa comunanza spirituale, ha concluso Papa Francesco, ci aiuta anche a promuovere e difendere nella società i valori morali, la pace e la libertà.